insormontabile una patta clavarosa che si è infilata alle spalle del per combinarla grossa perché ha corso un rischio enorme ma per fortuna è riuscito a rimediare subito palla buona per Reina chiuda è libero, attenzione vincca 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 il pallella uno stasgaro il pallella ma bene è vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso è vero è vero è vero è vero Oooooooooo più più disposizione più più Sì, tutto questo è che stia. PiSÄ KAAASTA VAI. PiSÄ VAI. OHOI MIKÄ TUO OLI, TULEE UUTTA! Wuhuu! Mità hemmet? Mikä? Ooooohohoho! Se oli komea, se Ei tosse piste tekee, mua vaikutunut Näin Käykö tuikkaan sisään Käy Ei tarvi! Ui! Lähtee päin yli! Läht mommy Lähtee Vamooos! Muaut affairs ance Via là! Che spettacolo di giocata! Palo non è finita! Eccolo il gol del Vattangelo! Deco il vincente! Attenzione a Messi! Messiiii! Chantanaa! Violi oli moottori. Puiguhaukka! 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 Parilla svetella! Hoiii! Covindatsi! Svetoiki! Eccolo! Quattro è lì! Occhio il crossberg Ibrahimovic! E con questo sono... AHA! OIE! oh e io io vitto mi sono la difesa alla meglio e allontana il pallone può sfruttare le corsie laterali rops un po' veri soft pietro and you don't want to lose possession no parte la ricorsa di ney bar Regore transformato con fredenza Ropsu meni tege, no kata vittu Oh my god Iano 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 Myyrätykki Xabi Alonso Prova la conclusione Subito Caldi Per le emozioni di questo match Benvenuti da Pierucci Pardo Come sempre Leli Adani Tutte le attenzioni oggi sono Oh Ehi Vitus D'applausi Prova Oh Signor No 4-0 Partita che sembra ormai Cassapollo E c'è il gol Dalla Lug Palla molto interessante Piddi 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 Oh no What happened all the time? Oh no! Oh no! Do you see that? Impressive Yeah Goal! Sergente! What a mess! Adamele! 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 Goal! Richarlison Grande tecnica qui Prova la conclusione 5-0 No totta Mut siitä tulis Luiks se olevaan plus ykkö 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 Eikoo rist 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 piano! OLEI! PILO! FUNOES MAARRAMANI! 그러면 io sono i perdi! D'AMBI! OI 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 Oh! Oho! Mitä helvettiä! Nyt tu oli panko! Mitä helveti! Sakari Kebab XXL Pue Sakarille Kebab-paita Ei! Tota-tota! Yksi XM OI! 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 Sittu mikä myyrä ti! Kiin Mä경ä? Katto pu jo sellata läpi nyt Ohohoho-hoho-ho! guarda nero terreno occhio prova la conclusione e c'è ridico ma la formazione l'ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti del Oh jo moriahs mitià tapahtu griitty tapahtu tuo piqo rasmi Boring This is getting boring Nooo Ha 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 go to sleep Neibar Controllano molto bene il possesso del pallone Possono passare in vantaggio Siamo entrati negli ultimi 10 minuti Che spettacolo di giocare Attenzione ancora pericolo Aaaaaaa Aaaaaa Oh! Messi può struttare lo spavso lungo la torcia OOOOH 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 Mità, di banzi. Oiiiii, Mità Kukas si 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 chiudzi missa omassa? attenzione a Messi aoi cioè fine oli 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 ok al pallone è filtrato Rivaldo Bisti ihan Bisti a me epine a me vengono scerchette oh i vitti mikä on holma Viii 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 Katsoanna Seuraavassa pelissä Terveisin kokemus poliisi Una potta tremenda Il portiere della missa Oh cacola lai Brozovic Uiii Aaaaaaah Pittole Vieni Oioioioioi Ponnistussimme Päish Päish Päh Päis P Miten Tomaali E engine H Ecco Degorst Degorst Tirano Valla in red 1-0 Tocco per Ibra Oh my lord WTF Oh my god WTF Milinkovic Oh yes It's gone in And now a chance Occhio Neymar Avanza verso la porta Occhio cieclare Oh mi oi 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 Oh Papua Ma oh 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 no 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 he Oh, ho ho, ii, mi dai, mazzia! Occhio a Dzeko Palla buona per Neidar E c'è la rete E c'è il gol il secondo per lui Curi dal ai Ohohoh tällä gameplay''llä Rovii ottanut tällä Nallauksen jälkeen Älä hola la giusta ehi, cos'è l'ha dato lì oh 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 oi 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 ooi oi 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 ooi o Frederick oh come come pistafo oh 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 non è solo qui commettano da lì grande opportunità e c'è un gol pazzesco ma che giocati ui oh 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 oh